E' la memoria, la memoria di ogni istituzione ha una memoria e mi sembrava strano, impossibile che la scuola non l'avesse, ce l'ha. 110 anni per ricordare il suono della prima campanella della primaria dei Amici di Treviso e in occasione di questa celebrazione viene intitolata l'aula storica del plesso al dottor Alfio Centin, ex dirigente e fautore della stessa. E' un altro mondo, era un altro mondo, dai banchi capisce come era organizzata la scuola, per cui si potevano avere classi di 50 alunni. Si può rivivere la storia una volta all'interno dell'aula che conserva ancora oggi i registri scolastici risalenti al 1874. Una scuola che compie 110 anni in realtà così complessa ha, come diceva prima il dottor Centin, una memoria storica dentro di sé. Banchi in legno che profumano di antico ed è tutto in ordine come se la lezione che arriva direttamente dal passato stia per cominciare. Sono stati costruiti dei percorsi animati in cui ci saranno dei personaggi storici che torneranno in vita tramite degli attori specializzati che proporranno proprio questa full immersion nel passato, quindi il rivivere completamente una lezione di inizio secolo. Ma un insegnante può veramente cambiare la vita di uno studente, diventa la linfa che alimenta il tessuto intimo di una scuola. Io ho imparato il canto del conto Ugolino, l'ho imparato a memoria, quindi tutta la quinta elementare di quell'anno sapeva recitare il conto Ugolino. Io posso recitarlo anche adesso perché me lo ricordo. Io ho imparato il canto. Io ho imparato il canto.